Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te C'è che ora non mi importa niente Di tutta l'altra gente Di tutta quella gente che non sei tu Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te C'è che ti voglio tanto bene Che il mondo mi appartiene Il mondo mio che è fatto solo di te Ecco che c'è Buongiorno, buongiorno Buongiorno, buongiorno E' un'epoca di più E' un'epoca di più E' un'epoca di più per essere un po' di nuovo, ma c'è movimento, c'è vita, ma non è abbastanza più profonda. Non so se è perché di Covid, non so se perché, ma c'è un'atmosfera. Ci sono molte stagioni, ma non è pieno di persone. Allora noi parliamo, parliamo a la cima, e poi parliamo. Perché la parliamo a la cima era una notizia. Allora, andiamo a vedere. Ovviamente Guido e io andiamo a trovare piccoli per la farmhouse, ma più di questo, è un po' bello per spendere un weekend. E spero che puoi mostrare un po' di cosa stiamo vedendo. Questa piccolissima cena, con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorato, la sussurrerà. La sussurrerà. La, 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 la. This market, which is said to be the largest antique market in Italy, has been running since 1968. While I would always advise consulting the site fieraantiquaria.org or visitarezzo.com or discoverarezzo.com, generally the market runs every month on the first Sunday and preceding Saturday from about 9am until about 7 or 8pm. La sussurrerà. La, 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 la. Mi farò prestare un sul dio di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorato la sussurrerà. La sussurrerà. La sussurrerà. La sussurrerà La sussurrerà. La vita è bella. Si, quella... La casa dei foi. è piccolina, c'è stato tutti i bicchieri e quanto viene? quanto viene la stufa? la stufa quant'è? 4 cento 4 cento e ho anche altri benzi bello questo è troppo alto? la stufa è uguale a quella che si sta comprando e la vendrà a 600 oh davvero? sì mi piace per quello? sì per il bagno? sì 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 what do you think? I've been looking for two antique wall lights to go on either side of a timber mirror in the bathroom these are some of the references I've found that I'm sort of taking inspiration from che non dico ricordi? no, sono di serpente chi è? amore amore ma questi ti piacciono? si amore vogliamo prendere? delle cose per ah questi sono belli sono 20 ah no sì sì allora no è così cute è un piccolo slè? sì è un piccolo slè? quando? dopo dieci anni c'è tu mi guardi negli occhi un momento lo puoi capire anche da te che cosa c'è? c'è che mi sono innamorato di te c'è che io ora vivo bene se solo stiamo insieme se solo ti ho vicino ecco che c'è c'è che mi sono innamorato di te second hand stores in industrial sites or just on the edges of cities like Rome and Florence I must add I must add though that when we ventured off from the market into some of the permanent stores packed with furniture just around the square Piazza Grande there we did see some bitter prices so half and half 50-50 you may find it out to believe but in the end we didn't buy a single thing we have quite a few rooms of the farmhouse to renovate so we are on a bit of a budget and need to be judicious with our purchases and really look around and compare prices I would highly recommend this market to anyone decorating a home in Italy or even if you're just on holiday and looking for a little keepsake a clock a lace table cloth something you could pack in your suitcase I left Arezzo feeling thoroughly enchanted by the city perhaps it was the glorious sunshine my date for the day or the fact that there was just the right amount of people to create atmosphere a mix of Italians and vintage loving foreigners and of course being surrounded by all this nostalgia always puts me in a state of discovery and whimsical dreaming because when you find something from another era and bring it into your space your home your world your bedside table you bring a piece of that era that artisan who crafted it the character who lived with it maybe their whole life into your life and if you don't far away and if you don't go Grazie a tutti. Grazie a tutti per aver guardato il prossimo episodio.